Il ministro Zanonato oggi in regione per la bilaterale con il ministro dell'economia degli Emirati Arabi Uniti. Incendio nell'azienda Cantori a Camerano, nessun ferito, forse la causa in un guasto elettrico. E sulla Indesit intervengono i vescovi marchigiani, è in gioco la dignità delle persone. Sgarbi ieri a dosimo, il critico ha spiegato la mostra da Rubens a Maratta che aprirà i battenti a fine giugno. Partiamo subito con un aggiornamento che arriva da Roma, un evento sismico di magnitudo 2.9 è stato avvertito dalla popolazione tra le province di Ancona e Macerata alle 7.03 di questa mattina. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Sirolo, Numana in provincia di Ancona e Porto Recanati in provincia di Macerata. dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Andiamo allora subito a Ancona e sentiamo le ultime novità. Da Chiara Principi. Grazie per la linea. C'è attesa per l'incontro di oggi alle 15.30 la bilaterale tra il nostro Ministro dell'Economia, Zanonato, e il Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti. Intanto ieri nella trasmissione RAI Porta a Porta sulla Indesit il Ministro Zanonato ha detto pensiamo anche a contratti di solidarietà per ridurre al minimo i licenziamenti. Accordo invece tra Ferretti S.P.A. e le organizzazioni sindacali R.S.U. sottoscritto appunto ieri sulla gestione dei 100 esuberi tra i lavoratori indiretti dichiarati a febbraio 2013 dall'azienda. Ed è tutto a te. Noi ci spostiamo a Pesaro da Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Tariffe idriche, confesercenti e confcommercio lamentano bollette troppo salate per alberghi e ristoranti. Per questo motivo le associazioni di categoria hanno incontrato il presidente del lato ambito territoriale ottimale per una verifica effettiva dei consumi e conseguente abbassamento delle stesse. Da oggi via la zona traffico limitato al porto di Pesaro. L'ordinanza della Capitineria di Porto vieta il transito delle auto ma non di bici e scooter da Viale Trieste all'incrocio con Viale Napoli fino alla zona del Nuovo Molo dalle 21.30 alle 7 di mattina. Sulla scelta si sono sollevate voci favorevoli e contrarie. Da Pesaro è tutto. Vi restituisco la linea. La cronaca dalla provincia di Fermo. Aveva trasformato il suo appartamento in un coffee shop di tipo olandese. Un luogo di aggregazione per giovani in cui provare varie qualità di stupefacenti fra una pizza e una partita alla Playstation. La Guardia di Finanza ha denunciato a Porto Sant'Elpidio un 21enne trovato in possesso di 210 grammi di marijuana già pronta per l'uso. Foglie secche di cannabis indica materiale per confezionare le dosi come bilancine elettroniche di precisione e trita marijuana. Sequestrate anche delle pipe ad acqua per consumare la droga, una pistola a giocattolo senza tappo rosso e quattro coltelli a serramanico. Ed ora invece passiamo alla redazione di Senegallia. C'è Alberto Olivieri. Sì, grazie. Ben trovati. Feneal, Will, Filca Cisle e Fillea CGL hanno indetto a partire dal lunedì prossimo 17 giugno lo stato di agitazione per lo stop dei lavori della terza corsia della 14 nel tratto Ancona-Senegallia. Nello stesso giorno si terrà un'assemblea con tutti i lavoratori, circa 700 compreso l'indotto, coinvolti nell'avvertenza della Senegallia SCARL Consorzio Samac, la ditta con la quale Autostrade per l'Italia ha rescisso il 3 giugno scorso il contratto di appalto. Nuovo poster da collezionare per il Summer Jamboree a Senegallia dal 3 all'11 agosto con un anticipo nella notte del 2. L'ambientazione legata alla città di Senegallia scelta quest'anno è la caratteristica Via Carducci, che sarà anche nuova location di concerti e attrazioni rock'n'roll del festival, arrivato alla sua 14esima edizione. In sole 24 ore è stato visto da 100.000 persone attraverso il post sulla pagina Facebook dell'evento Summer Jamboree Official Page che conta oltre 40.000 fan. È tutto, vi ringrazio, vi restituisco la linea, vi ricordo il sito radiovelluto.it. Grazie Alberto e noi come sempre passiamo al meteo. Ecco qui le previsioni per sabato 15 giugno. Avremo un cielo sereno poco nuvoloso domani per il transito di lieve velature nel pomeriggio. Le precipitazioni assenti, le temperature in lieve aumento, i venti a regime di brezza. Il mare sarà quasi calmo, poco mosso nelle ore pomeridiane. Infine non ci saranno fenomeni di rilievo, le temperature più alte verranno registrate all'interno nella provincia di Ancona. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro OTG, grazie per averci seguito. Questa sera come sempre spazio all'intervista al presidente Spacca a partire dal pomeriggio che parlerà tra le altre cose di Endurance Lifestyle, quindi la manifestazione che si svolge a Sirolo e Numana sul Monte Conero e poi altri argomenti tra cui turismo e economia. Noi ci rivediamo settimana prossima. Grazie. Grazie a tutti.